Lavoro da un anno e mezzo nel gruppo Cerdisa Recchetti. Ho scelto questa azienda perché cercavo un posto dove monotonia e routine non fossero presenti. L'ho trovato. Ogni giorno viviamo all'insegna delle novità e ne sono felice perché mi rispecchia perfettamente. Il mio obiettivo quotidiano è quello di medesimarmi nel cliente che vuole ricevere un prodotto di qualità. Quindi lavoro per dare una risposta veloce e precisa ai colleghi e al customer service. È un lavoro di squadra che ci motiva e permette di avere una struttura solida. Volontà è la parola che mi viene in mente se penso al gruppo Cerdisa Recchetti, fatto di persone volenterose che puntano al miglioramento e alla collaborazione quotidiana, come me.